Un vasto incendio boschivo si è sviluppato ieri sulle alture di Cervo, nonostante l'intervento di vigili del fuoco e protezione civile, le fiamme sospinte dal forte vento hanno raggiunto e distrutto alcune strutture che ospitavano ponti di trasmissione di emittenti televisive e radiofoniche e anche gli impianti di telecomunicazione della Uno Communication. Per ristabilire il servizio di telefonia e internet in tutto il Golfo dianese, i tecnici della ditta imperiese ieri hanno lavorato fino a tarda sera. Le fiamme purtroppo sono ripartite nella notte raggiungendo anche il versante di Andorra, e ancora oggi è stato necessario l'intervento di personale a terra, canader ed elicottero del servizio antincendio regionale.